Previsioni per venerdì 29 dicembre Cielo inizialmente nuvoloso con progressiva diminuzione della copertura a partire dai settori settentronali Rovesci o temporali sparsi, limite delle nevicate attorno ai 400-500 metri Temperature in diminuzione in particolare nei valori massimi Venti nord-occidentali di brezza tesa nell'interno, di vento moderato lungo la fascia costiera Mare, mosso, gelate diffuse in mattinata nelle zone interne Grazie